Bene, adesso... Eccoci, buongiorno, benvenuti a Clauzetto, nel santuario del preziosissimo sangue di Gesù, dove si conserva dal 1755 una reliquia del preziosissimo sangue di Gesù, donata alla parrocchia di Clauzetto da un Cescutti che lavorava a Costantinopoli alle dipendenze di un diplomatico veneziano, il quale alla fine del rapporto di lavoro gliela regala come segno di riconoscenza per la sua fedeltà e la sua competenza professionale. Il Cescutti rientrato a Clauzetto la regala alla parrocchia, il parroco di allora subito si prodiga per ufficializzare la devozione, quindi a livello canonico e liturgico, ottenendo anche il decreto per l'indulgenza plenaria, eccetera. Ci stiamo preparando il perdon grande che si celebra ogni anno il giorno dell'ascensione e il perdon piccolo la prima domenica di luglio. Poi ogni domenica ce l'ha messa alle 11 e in particolare ogni prima domenica del mese c'è anche la benedizione con la reliquia. Molto bene. Vi aspettiamo. E noi siamo contenti di essere venuti oggi a fare questa visita. Certo. Va bene. Grazie. Grazie a voi intanto delle spiegazioni. Ma sono falsi. Ah, non vado a vedere. Sì. E chi ne ha a fare? Sono, sembrano vedi.